Ecco, sono arrivata. No, ne vogliamo parlare, non lo so. C'è neve, 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 neve. Guardate la strada. È bestiale questa strada. Guardate com'è. Cioè, sono arrivata a casa io. Non ci posso pensare. Basta, no? Non ce la faccio più. Eh, aiuto. Non ci posso pensare, ragazzi. Bestiale, bestiale. Ma è Torino qua? Non è Roma. Questo è Torino. Fantastico. Ciao, nevica troppo. Ciao, 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 ciao.